Allora diamo inizio a questa che come da oggetto del comunicato che vi è arrivato è una conferenza stampa per illustrare i festeggiamenti ormai imminenti della festa di San Calogero. Lo sappiamo da tradizione ormai con le prime due domeniche di luglio ad Agrigento è festa di San Calogero ma già nell'aria si respira la festa qui al santuario. Don Giuseppe ieri sera c'è stato mi pare il primo degli appuntamenti che prepara alla festa quindi do adesso la parola a Don Giuseppe Veneziano che insieme a Don Giuseppe Lentini sono rispettivamente il parroco e il vice parroco della parrocchia dell'Immacolata e quindi anche del santuario San Calogero. Quindi diamo inizio a questa conferenza e chiedo proprio a Don Giuseppe di illustrarci il programma di quest'anno. Pace e benedizione a tutti e vi raggiungo questo saluto carico di tanto affetto e direi anche con sicilità anche di tanta preghiera. La festa di San Calogero è un appuntamento ormai tradizionale, potremmo dire centenari, perché questa festa sta a cuore agligentini, si dice agligento legato a San Calogero, quasi fosse è il patrono ma è un patrono effettivo, affettivo di fatto. Siamo vicini alla festa e mi è sembrato giusto dare comunicazione per quanto riguarda la gestione. Intanto è la nostra unità pastorale Mater Misericordie che vede le parrocchie dell'Immacolata in Santa Lucia, l'assunta comunemente chiamata Santa Lucia, è il santuario di San Calogero, è unita e quindi si propone così come unità pastorale anche questo evento che ci coinvolge tutti quanti. La celebrazione avviene dal giorno 28 giugno all'8 luglio, 28 anche se non è venerdì, anche se non è l'inizio dell'ottavario, ma è preceduto questo da un evento che sarà la mostra fotografica relativamente alla festa di San Calogero, come veniva fatto anticamente e come si svolge anche ai nostri giorni. Questo verrà proposto nella biblioteca comunale, ecco la Rocca, San Calogero di Girgenti, è proposta dalla compraternita e quindi la compraternita quest'anno ha voluto proprio mettersi a riflessione della comunità per alcuni momenti particolari. Questo sarà il primo alle 7.30 del giorno 28 giugno, giovedì. Mentre l'ottavario comincia con le messe il giorno 29 che è il venerdì e con una presenza particolare. Quest'anno sarà a predicare l'ottavario un padre nigeriano, padre Linus, non vi dico il cognome perché è un po' problematico il cognome, poi quando arriverà lui vedrà anche il suo cognome. Abbiamo desiderato che fosse lui a venire in mezzo a noi perché anche nella nostra comune ci sono molti digeriani e allora è un momento anche aggregativo di solidarietà con questi nostri fratelli che vengono e quindi che si sentono aderiremo sempre più a casa loro. Evidentemente non potrà mancare la presenza del nostro cardinale nella prima domenica, nella messa delle 9, che sarà animata dalla corale Magnificat che quest'anno ci offrirà, ci donerà un concerto nel 25esimo anniversario della loro fondazione. Io ringrazio anche Lilia Cavaleri, il maestro direttore, ringrazio anche quanti il Presidente, Marco Antonio per la disponibilità che ci hanno offerto per questo concerto che sarà mercoledì 4 luglio alle ore 21 qui in Santuario. Un evento particolare sarà il restauro dell'organo che la ditta in questo momento colletti o l'organaria di Piusa Sclafani sta realizzando, ecco questo nostro organo era del 1963, adesso verrà restaurato e rimesso a nuovo. Ringrazio l'attenzione anche per quelli che stanno collaborando che anche la comprensione si è autotassata, ecco per dare questo gesto e questo senso di coinvolgimento in prima persona più che chiedere soltanto dagli altri, è giusto che se si parli in prima persona non si pretende solo dagli altri, no? La prima partenza deve partire da io, comincio io, e si comincia così. Io ringrazio anche la comprensione per questo gesto di comunione e di disponibilità che ha sentito di offrire. E così come ogni anno, l'anno scorso l'abbiamo vissuto, quest'anno saranno ancora di più, le comunità parrocchiali saranno presenti ecco nelle celebrazioni quotidiane. Ecco, presiderà la vessa il parroco, mentre il padre di Nussi farà sempre l'omenia, quindi porterà avanti un discorso come tema di questi presentamenti e nella tua volontà è la mia gioia. Con San Caroggio è verso la santità, la santità è la pienezza della vita. Il padre di Nussi ci aiuterà piano piano. L'appuntamento è poi il sabato con la banda e quest'anno avremo una novità, anche perché sarà a animare con questa nostra festa la banda di Castel Termini, che ringrazio. La banda di Castel Termini con il suo maestro, in questo momento... Giuseppe Palumbo. No, no, la banda è Giuseppe Palumbo e ringraziamo. Ringrazio anche la banda musicale degli altri anni, da tanti anni, c'è stata la banda di San Biagio Palumbo con il maestro Longo, che ringraziamo per quello di servizio che ha reso fino ad oggi, fino allo scorso anno. Un servizio perfetto, impeccabile, viene animato. Quest'anno si passa il testimone a un'altra banda. Ed è anche bello questo... non è un metterina ad ancolo. No, no, è proprio apprezzare anche la novità. Ecco, ognuno può dare quello che può, ringraziando il Signore. Nella processione, ecco, serale, quella diurna, evidentemente, è affidata ai nostri portatori che sono, come dicevo ieri sera, portatori di pace. Quindi portano la magia, portano il saccarogero e la festa sia veramente festa di gioia, di pace e di fraternità. Nella sera invece, ecco, il santo sarà portato dalla donorata qui in santuario, ecco, attraverso questa collaborazione dei fedeli. Ecco, la città venerà quest'anno e porgerà la spalla a San Calogero vivendo la gioia della fraternità. e penso che portare sulle spalle il simulacro chiamato degli grigendini è un desiderio coltivato da tanti grigendini, fin da piccoli. Hanno disegnato sempre a mezzo di sud a San Calogero, ma evidentemente il peso quello che è, per cui i portatori hanno, però, danno la possibilità a tutti di poter raggiungere il santo, toccando, abbracciando, accarezzando, baciando. Quest'anno invece ci sarà, oltre questo, ogni anno, la possibilità, ecco, di portare, no, a spalla, non il peso, ma portare a spalla, dare la spalla. Questo portare a spalla, attenzione, è un richiamo a tutti, cioè il richiamo a condividere i nostri pesi. Il Signore ci dice che bisogna portare gli uni il peso degli altri. Allora, portare a spalla significa anche avere a cuore, no, la spalla sta vicino al cuore, avere a cuore il bene degli altri, quindi un'attenzione particolare verso i poveri, sugli indigenti. Allora, tutto questo ci aiuterà a vedere il Vangelo come vera via della gioia, della fraternità. Questo San Calogero è venuto a donarci. Abbattendo le barriere, che sono quelle dell'indifferenza, del razzismo, dell'autoreferenzialità, devono essere più aperti, più aperti a tutti. Quindi, quest'anno, coniugi, famiglie, genitori, figli, anziani, giovani, cristiani di tradizione, nuovi cittadini, porteranno la spalla a San Calogero e quindi porteranno questo percolo dall'adorata al santuario. Mi pare molto, molto bene e soprattutto significativo da questo quello di vista. E un altro... Ho visto che ci sono anche delle giornate tematiche all'interno della festa, no? Sì. Vogliamo parlare anche di questo o non so se devo aggiungere altro? Vorrei aggiungere così, intanto, il problema della vita, si parla della vita? Bene, allora noi abbiamo, abbiamo con il... l'innovazione della torta, no? Proposta, sediata da uno chef Giovanni Mangione ogni anno, ormai da alcuni anni, quest'anno questa iniziativa, diciamo così, ha uno sviluppo particolare, perché c'è un'attenzione che noi vogliamo dare alla vita. Allora, il centro di aiuto della vita, qui ad Agrigento, opera Don Guanella, da tantissimi anni, ecco, svolge questo servizio per la vita nascente. E io vorrei che... anche con noi, ecco, possa dire qualcosa relativamente... Perché se abbiamo una megatorta, ogni partecipante donerà simbolicamente 50 centesimi e accoglierà il dono della torta. Però questi 50 centesimi andranno a favore, ecco, di questo centro della vita. Prego. Ringrazio padre Veneziano. Ringrazio padre Veneziano per l'invito che ha fatto al centro aiuto della vita. Noi siamo un volontariato che operiamo sul territorio di Agrigento da circa 19 anni. Dare i numeri mi sembra riduttivo. Noi dobbiamo semplicemente, come ha benissimo fatto padre Veneziano, dare il messaggio della vita. Perché il centro aiuta alla vita, non fa altro che aiutare queste donne e fare in modo che loro accolgano la vita, accolgano il figlio. Il messaggio è proprio questo. Noi dobbiamo accogliere il figlio. Aprite i giornali ogni giorno, leggete la crisi, leggete che in Italia c'è la demografia che sta calando perché non nascono più bambini e ci sono tanti problemi, compreso quello della famiglia. Noi abbiamo a cuore la famiglia e abbiamo a cuore l'accoglienza del figlio e in 19 anni di attività abbiamo salvato circa 1200 bambini. Significa un comune medio della nostra provincia. Esattamente. Pensate per esempio a Comitini, pensate ai comuni della montagna. 1200 bambini. oggi ci sono radicendo 1200 persone che grazie al CAV sono in mezzo a noi. Questo è il nostro servizio, è il servizio che noi offriamo al più povero, come ha detto benissimo Santa Madre Teresa di Calcutta, al più povero dei poveri, che è il bambino non ancora nato. a colui che non ha voce, perché se voi pensate ad una mamma che intende abortire, chi difende questo bambino? A chi? Noi diamo voce a chi non ha voce. È un nostro servizio, facciamo quello che possiamo, c'è molto ancora da fare, perché 1200 bambini sono ancora pochi nella massa degli aborti. Grazie. Grazie. Così, questo lo evidenzieremo anche benedicendo le mamme in attesa, che saranno con noi il sabato, questa è una manifestazione, cantiamo la vita, faremo un pellegrinaggio, una passeggiata con i passeggini e anche con le mamme in attesa che benediremo qui prima di venerdì, poi con la banda e con i tamburi andremo da qui verso la piazza Cavour. Ecco, un'altra attenzione quest'anno abbiamo voluto darla, intanto il sabato ci sarà la donazione del sangue, ma poi un'altra prevenzione che non va in vacanza. Praticamente abbiamo chiesto all'Unione Italiana Ciechi degli Ipovedenti con la presenza dei responsabili una sensibilizzazione della città. Bene, la seconda domenica, qui nella piazzetta di San Calogero, ci sarà proprio questa associazione. Addirittura i non vedenti e i loro accompagnatori e le loro famiglie porteranno il santo nella prima domenica per tutta la via Atenea, quindi spingeranno avanti il fercuro del santo. Questo è un momento anche per loro molto bello. Nella processione serale del rientro. Quindi un'attenzione anche a questa realtà, dei ciechi e degli ipovedenti. L'inaugurazione dell'organo, ovviamente, chiuderà la settimana, il sabato, mentremente prima della seconda domenica, con il maestro Vito Gaiezza e il tenore Giuseppe Maliemandino, perché avremo qui con loro e li ringrazieremo. Avremo la presenza anche dei Mons. Legregni. Mi sono dimenticato anche della compraternita e poi ci sono i rappresentanti della compraternita San Calogero, a partire dal Presidente, che appunto hanno un ruolo determinante nella festa. Quindi un ringraziamento anche a voi per quello che fate. Un ringraziamento, evidentemente, all'amministratore comunale. Ci saranno ristrettezze. Lo scorso anno, purtroppo, non si è potuto... Però quest'anno si sta facendo un po'... Capite che, evidentemente, non possiamo noi esaltare, esultare. Non deve essere anche questo discorso, anche questa modestia, no? Ecco, e questa, direi, sobrietà. Anche nella festa la noterete quest'anno. Non c'è un... Però ci sono dei momenti significativi che dobbiamo cercare di evidenziare. Il Comune contribuisce, sì. Come già voi sapete, ormai degli occhi di stampa, viene con l'impegno di 13 mila euro. Quest'anno sono sicuri. Purtroppo, lo scorso anno, non sono stati sicuri. Però, grazie a Dio, buona volontà ci vuole, no? E ce la stanno mettendo tutta. E capite, evidentemente, che dobbiamo stringerci perché le spese sono tante. Certamente il santuario contribuisce perché riceve anche delle offerte. Ma non pensate che ci siano... Tante volte si pensa chissà quando quando arriva... Ogni famiglia sa, no? Quella è la situazione propria. E quindi anche il santuario, da questo punto di vista, è disponibile per... Già fin d'ora abbiamo dato qualcosa alle famiglie bisognose, secondo me che noi dovremmo darle.